Il villaggio dei Fiori c'è ancora, sono tutte villettine minime, quasi sempre abusive, autocostruite. Intorno vedete la cassinetta che vi dicevo che è in largo Brasilia, la cascina corba che adesso è stata inglobata nel quartiere, nel villaggio dei Fiori. Il giambelino finiva sostanzialmente in via Brunelleschi. Ci sono le case popolari, comincia a esserci un riempimento della via Giambellino, della via Tolstoi, ma ancora in Lorenteggio, questa qui è la via Lorenteggio, e sulla destra non c'è assolutamente niente. C'è ancora la cascina. Sì. Perché questi erano i Teroni, anzi, non sono i Teroni, ma sono i francesi, ancora peggio. Cioè la storia del quartiere Lorenteggio è, ve lo leggo anche, il quartiere Lorenteggio, dove è che le trovi? Stadio San Siro, 1938, per iniziativa del governo, sorgono a Lorenteggio le case popolari con lo scopo di alloggiare i rimpatriati che, dopo un'assenza fortunosa, più o meno lunga dalla madrepatria, ritornano dalle colonie immiseriti fisicamente e spiritualmente. E vengono alloggiate le case popolari? Le case popolari queste qua. Non si è detto che sono state costruite negli anni 50? No, 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 non sono state costruite negli anni 50, le case popolari a Giambellino sono state costruite, il Giambellino vecchio, che è quello di Lavia, Bellini, 1925-1930. E queste 38-39, 40 insomma. Perché originalmente sono stati alloggiati tutti i primi? Sì, erano quelli che prima della guerra, subito prima della guerra, tutti gli italiani che erano in Francia, in Marocco, in Tunisia, in Algeria, che stavano diventando nemici, venivano internati. E comunque c'erano dei fenomeni di razzismo contro gli italiani molto forti, che poi in Francia sono andati avanti anche nel dopoguerra, per tanto tempo. Questi tornavano a casa dalle colonie francesi, sostanzialmente cacciati, e arrivavano qua senza niente. Quindi erano i piedi neri nostri, come dicono in Francia. E gli hanno fatto quel quartiere lì un po' l'azzaretto fuori da tutto. Non ti so dire perché non l'hanno fatto attaccato alla via Bellini. Probabilmente c'era un piano regolatore. E poi anche urbanisticamente è per te un po' questa riposta. Era una strategia di cogliere lì per praticamente far pagare al comune le opere di urbanizzazione primaria, cioè le fogne, l'elettricità, tutte queste cose qua, e poi permettere ai privati di urbanizzare senza questo posto. di riempire. Amici del signore. Capito? Qua la strada arriva già per forza lì perché il comune ha fatto la cosa lì, e in mezzo allora quello che costruisce, costruisce più agilmente. Voglio dire, è un po'... Sì, sì, è quello che succede oggi, è anche peggio. Però è anche, se vuoi, come dire, un principio di sana amministrazione. Per invogliare i privati a costruire dove io voglio che la città si riempia, io costruisco dopo con i soldi pubblici, di modo che dentro si crea un'area che è già, come dire, previsto che avrà dei servizi, eccetera, eccetera. Anche vendere una casa, come dire, è più facile venderla se vicino ci metti il centro commerciale, non so come dire, o l'asilo. Sì, e qualche vecchietta mi dice che loro erano spaventatissimi da questi bulli che parlavano francese. Cioè, robe di ragazzini, nei cortili del giambellino, giravano questi qua, che erano i più tamarri di tutti, e parlavano francese, io la trovo meravigliosa. Sì. Il signor Luciano, che abbiamo intervistato nel progetto Memorie, viene dal Marocco. Otto fratelli, perdono il padre, arrivano otto fratelli al giambellino senza padre. Te lo ricordi, l'amico di Stino, i primi giorni del progetto Memorie? E qua è il delirio, oltretutto, pensate che negli anni 50 a Milano si riempie di catapecchie. Cioè, adesso, decorato, si fa fuoco e fiamme sulle baracche dei Rom, faceva. Adesso lo fa Granelli, però hai visto ieri sul testo di catapecchie. Però negli anni 50 a Milano, tutta quella zona lì, che qua è sempre pulita ai prati, in realtà erano tutte baracche di immigrati a cui ancora non avevano dato la casa. Ma c'erano anche il problema degli scollatti, dopo i bombardamenti? Non so, perché io so che, ad esempio, le case in quella zona là, molte sono, tipo, gli annato terreno dopo i bombardamenti. Quella zona là, intendi? Qua, via, il villaggio dei fiori. Ecco, quella è un'altra storia. Allora, quelli del villaggio dei fiori sostengono che, quando è finita la guerra, c'era una grande penuria di case, perché Milano è stata bombardata fortissimamente, ha perso, credo, quasi il 20% del patrimonio abitativo. I miei zii mi raccontano di portinai che si arricchivano perché c'era un mercato nero della segnalazione delle case vuote, cioè un momento di grande casino. La Repubblica di Salò si era portata tutta una serie di funzionari a Milano, venendo da Roma, dal sud, per garantire il funzionamento della Repubblica, in un momento in cui i milanesi sfollavano oppure si nascondevano, erano partigiani, eccetera, eccetera. Questi qua poi naturalmente perdono la guerra, sono invisi a tutti e costruiscono allora gli alleati, ancora in amministrazione alleata, subito dopo la guerra, le cosiddette casette finlandesi o canadesi, le chiamavano in tutti i modi, che erano delle casette di legno sostanzialmente, delle villettine prefabbricate, che portarono quelli dell'esercito canadese per metterci dentro questi fascisti che avevano perso la casa e che però erano ancora indispensabili all'amministrazione dello Stato nel dopoguerra. Questa è la leggenda sul villaggio dei Fiori, no? Che è quel posto lì che dici tu. Comunque, delirio sulla casa, c'è questa nuova urbanizzazione, dopo vi faccio vedere delle foto terribili, si capisce un Kaiser molto mosse nella nebbia, eccetera, ma che danno molto l'idea, cioè era proprio aperta campagna d'inverno con la neve, questi avevano soltanto strade e marce, perché tu dici, milioni di urbanizzazione se li paga il comune, ma in realtà le case, le strade ci hanno messo la cifra prima di farle. La carioca si chiamava così perché ballava, hai capito? Era il pullman del... Ok, allora, questo qui è il giambellino, diciamo, famoso. A me questa carta fa abbastanza schifo, però qua vedete che il tram, che è il numero 28 e l'8, che è il tram storico del giambellino, cioè era la numerazione storica del tram del giambellino, qua c'è già sostanzialmente tutta la cosa, però da questa carta non si capisce che cosa è progettato e che cosa è reale, per cui mi fa schifo, perché vedete via l'Etiopia, che vi dicevo prima, che arriva in Piazza Frattini, che non c'è mai stato. Però, diciamo, la struttura della città è quella classica, il tram arriva effettivamente fin lì, quindi si può presumere che sia verosimile almeno in parte. Qui c'è la seconda immigrazione, no? Dopo guerra, anni 50, non è soltanto del giambellino, arrivano molti immigrati meridionali, c'è un boom delle fabbriche, un boom economico, un boom dell'attività produttiva. Il giambellino come luogo di accoglienza è un luogo profondamente popolare, in cui si parla milanese, e arrivano questi che, quindi non si parla l'italiano sostanzialmente, l'anno scorso quando è morto Mike Buongiorno, voi avete, vi hanno tirato scemi questo racconto, il fatto che Mike Buongiorno ci ha insegnato l'italiano, cioè che la televisione ci ha insegnato l'italiano, e Mike Buongiorno, 1954 la televisione lascerà doppia, allora l'italiano l'abbiamo imparato in quegli anni, che poi fosse merito di Mike Buongiorno, è relativo, però sostanzialmente quelli che venivano a trovarsi nella nostra periferia erano persone che non si capivano, esattamente per certi versi, e forse anche se ci pensate bene di più, di quanto non ci capiamo noi con gli immigrati africani o sudamericani, che comunque con noi la Coca Cola ce l'hanno in comune, non so come dire, lì non c'avevano nemmeno quello in comune, un friulano e un siciliano e un milanese, che cosa ha fatto in modo che si creasse la possibilità della convivenza all'interno di questi quartieri, che erano comunque quartieri molto poveri, se vuoi capiterà poi nei prossimi sei mesi di fare un giro dentro queste case, non c'era riscaldamento nelle case, è stato messo dopo, tutte le case ancora adesso, hanno i tubi di riscaldamento esterni, perché è stato aggiunto in un secondo tempo, il riscaldamento. Mio padre mi raccontava in questi... Posso fare un racconto di famiglia? Mio padre che si è trasferito in quegli anni in un quartiere popolare allo Stadera, e diceva che era i prim 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 terum, diceva. «Quand che ha cominciato a fare frecce, hanno tirato già i scuri, gli hanno sbattuto dentro nella stua». Allora, Mina, tranquillo. Diceva, «Quando ha cominciato a fare freddo freddo, hanno tirato giù le imposte delle finestre e le hanno messe nella stufa, perché non erano abituati. E poi da venire i purcelli sui scal, questo si capisce. Cioè, differenze, ragazzi, no? Qua c'erano già le industrie, no? Erano contadini. Allora, che cosa ha fatto in modo che questa commistione funzionasse? Sostanzialmente, dal mio punto di vista, per come la raccontano, anche per come l'ascolto, la cultura della fabbrica. La cultura di classe, per certi versi. Perché? Perché la fabbrica era una fabbrica in rapidissima espansione, con un sindacato storico, per certi versi, come dire, solidamente appostato, ma alle prese con una trasformazione molto...